Gara 2 del TCR Italy dal circuito di Vallelunga, il quarto dei round della stagione, in pole position c'è Igor Rastefanovski con Simone Pellegrinelli in prima fila con lui, poi Mugelli guidetti in seconda fila, Tavano Ielmini in terza fila e questo che ha nelle prime curve il contatto tra le due Cupra che mette fuori gioco, Salvatore Tavano il campione in carica e leader della classifica di campionato tante le schermaglie, questo è un contatto tra Giardelli e Guidetti, poi Guidetti qui vedete costretto al ritiro perché desciappa ed è fortunatamente poi evitato da tutte le vetture che sopraggiungono, Stefanovski intanto al comando, questo è un contatto tra Brigliadori e Max Mugelli, qui un contatto tra Francesca Raffaele e Matteo Poloni e ancora schermaglie un po' per tutte le posizioni, questo è il sorpasso di Alessandro Giardelli che va a prendersi, la seconda posizione ai danni di Jacopo Guidetti, poi anche Brigliadori riuscirà a sorpassare Guidetti, mentre Marco Pellegrini tenterà fino all'ultimo di andare a conquistare la quarta posizione sorpassando Guidetti, non ci riuscirà ma arriverà comunque quarto perché dietro Stefanovski che vince, la seconda posizione di Eric Brigliadori si trasforma in una decima posizione per una penalità, quindi podio per Giardelli e per Guidetti con Imberti, primo dei DSG.